Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed e eccoci qua finalmente con l'incontro online. Potreste sentirmi un po' diverso rispetto al solito, perché ho il ventilatore acceso, quello piccolo da tavolo. Cercherò comunque di ridurre al minimo il rumore e di farmi sentire il più chiaro possibile, però se sentite qualcosa di strano è il ventilatore. Facciamo questa prova per vedere se posso registrare con il ventilatore o no. Allora, senza perdere tempo andiamo a fare l'incontro rapido online. Ho utilizzato sempre Roy Jones Jr. in questi video, dato che avete visto un po' come combatto con lui, ne avete visto come combatte lui. Anche se alla fine gli incontri non sono durati troppo, erano contro l'intelligenza artificiale, ma questa volta online contro una persona vera sarà un po' diverso. E soprattutto ragazzi, credo che beccheremo qualche colosso. Per l'online ci fanno vedere un po' vitalità, energia, vedete quante cose. Non so come potrà andare, di solito comunque mi trovo abbastanza velocemente gli altri combattenti. Devo essere sincero, non sono riuscito a giocare abbastanza ultimamente, quindi non sono né migliorato e spero né peggiorato. Ma adesso vedremo quanto ci potranno gonfiare. Bene, connessione persa. Devo dire che tra tutte le partite che ho fatto è la prima volta che mi capita, quindi probabilmente si è scollegato. Ci siamo, ci siamo. Allora ragazzi... Va bene, va bene, dai. Perfetto. Non è neanche tanto esperto però, eh. Quindi si può fare, si può fare. E ragazzi, non so se nell'online tende alla simulazione il gioco, ma credo che sia un po' più arcade. Infatti, serviranno meno colpi per andare K.O. Andiamo. Niente, l'avversario neanche ce l'ha fatto vedere Mohamed Ali. Lui vuole giocare, non vuole vedere nulla. Va bene, sbrigiamoci, sbrigiamoci. Allora... Solita tattica. Ehi. Non so chi ha colpito chi. Comunque, nell'online potete vedere che abbiamo i battiti e la resistenza in basso a sinistra. O comunque in base a dove stiamo giocando. Ok che Mohamed Ali comunque è una branda però... Non si sta parlando minimamente. Potrebbe giocare a nostro favore, no? Devo dire però che non consuma energia, quindi... Essendo conservativo, è un pericoloso avversario. Sì, sì. Sto cercando di capire come combatte, ma... Non si para minimamente? Aia. Avete visto la resistenza come è andata giù con la botta? Ok, quando sta per finire il round attacca di più. Buono. Teniamola a mente questa cosa, eh. Ok, stiamo abbastanza puliti. Lui con il corpo potrebbe andare giù. Ah, questo non te lo aspettavi. E neanche questo. I denti. Ragazzi, scusate se non parlo, ma mi concentro in modo diverso nell'online. Perché giustamente potrebbe fare una mossa un po' più particolare rispetto all'IA. Oh, 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 oh. Aia. Aia Uh bello questo è stato bravo E sta giocando meglio di me Per esempio a Muhammad Ali E' il pugile che in questo gioco Ha una valutazione più alta Quindi prenderlo E' un po' come dire Sì sono Sono un po' avvantaggiato grazie Oh è suonata Ok qualcosa Qualcosa ci è arrivato Ovvio ragazzi che Il video lo caricherò Sia se vinco sia se perdo Uh buono Aia E lì stavo caricando troppo No 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 Via 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 Abbiamo rischiato eh I colpi ragazzi come vedete Non sono precisi perché Nell'online è un po' così Ma anzi ma anche troppo bene Essendo un gioco in accesso anticipato Ok qualche colpo nostro lo sente però eh Non tutti Allora non ci voleva quelle botte lì Non ci volevano Beh non male siamo sullo stesso livello Secondo me Eh sta vincendo lui a punti però Vabbè è giusto è giusto I primi round Ha giocato molto meglio di me Proviamo a fare il possibile Ahia è così Non così magari Allora non ci voleva Allora non ci voleva Ragazzi forse ho capito come prenderlo Oh ma cosa Cosa ma non ho neanche visto se mi ha preso Eh qua è tosta ragazzi Tosta Rialza di Roy Rialza di Roy Siamo salvi Mi sarei comunque alzato però Bella botta eh Siamo attenti qua Sì Sì Eh sì Però lui dirà belle botte Vabbè C'è Mohamed Dali Non è che È Carletto In molti casi esagera eh Nel senso che tira più colpi Nel senso che tira più colpi del Dovuto Andiamolo anche noi una volta Al tappeto Gentilmente Comunque mi basterebbe Rincogliorirlo un attimo Giusto per far capire Che ci siamo E' lo sbagliatissimo eh Ti ha detto vulo lì Fortunatamente l'energia Ancora sta messa bene Ma la vita Mettiamogli paura Mettiamogli paura Dai che è fattibile Dai che è fattibile Eh no Magari non così Oh Ragazzi col sinistro Proprio Valla grande eh Qui non si para Al volto E da inizio partita Stiamo colpendo Quel fianco Non credo Stia messo proprio bene No Aia E vedete lui Rimanendo un po' più lontano Rispetto a lui E' comunque avvantaggiato A uno lungo Particolarmente Più lungo Ragazzi potrebbe avere poca energia Potrebbe avere poca energia Perché lo vedo più rallentato Rispetto a inizio match Sta vincendo a punti E' giusto però E' giusto Ha messo a segno Molti più colpi dei miei Purtroppo i bugini Sono un po' più Scattosi Nell'online Che fai? Ci prende anche un po' in giro Perché effettivamente Noi stiamo super Difesi E lui sta Tutto quanto bello Fluido Guardate qui Però al fianco E' mica infinito E' Neanche la faccia di Roy Due bugini fantastici Grazie a tutti Ci ha tagliato Ci ha tagliato Ragazzi L'online Vedete E' un po' più particolare E' più carino E devo dire Che questo avversario E' bravo Aia Aia Via via Roy Ci stanno calando i battiti Piano piano A inizio match 120 Stiamo a 105 Non credo sia una buona cosa E' ma noi Per prenderlo Dobbiamo allungare Troppo il braccio E' un po' più carino Via 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 Che non abbiamo più stamina Pericolosissimo Pericolosissimo Abbiamo rischiato Lì un colpo Andiamo giù Attacca molto meno Se ci fate caso Non so come stia messo lui Noi il taglio Ce l'abbiamo E peggiora Non stiamo neanche a metà Della nostra salute E non è male Ma dobbiamo stare attenti Non sappiamo come stia messo lui Ma credo che la resistenza Gli sia calata parecchio Ma dobbiamo stare attenti Non siamo belli freschi Ma neanche lui Perché starà allentando parecchio E dubbito sia tattica Ma dobbiamo stare attenti aia è tosto è tosto ragazzi è tosto non so neanche in che round ci troviamo sinceramente perché sono incentratissimo e non so neanche quanti siano i round perché potrebbero anche essere meno di quelli che metto di solito io nelle mie partite ragazzi non abbiamo più energia però qualche colpo lo volevo sferrare siamo stabili più o meno come prima vabbè non male anche lui però uh siamo pari siamo pari oh ragazzi non molla non molla proprio e dai la soddisfazione di mandarlo almeno una volta giù anche se perdo guardate guardate che ci provo pure lui a colpirmi al corpo perché vedete che fa effetto recuperiamo recuperiamo alziamo questi battiti perché aia aia non sto utilizzando minimamente il jab ragazzi probabilmente sbaglio ma proviamo a continuare con questa tattica stiamo mantenendo abbastanza bene perché non siamo scesi più di tanto a livello di a livello di l'italità e stamina e i battiti sono scesi anche a 99 dai non può non può resistere così tanto davvero non può cioè di sicuro non sta messo benissimo grazie Ragazzi ha paura Scappa praticamente Scappa ma noi dobbiamo stare attenti con la stamina Possiamo farlo attaccare un po' e provare a sfinirlo Però vedete ragazzi c'è proprio un problema Cioè noi non l'abbiamo mai fatto arrancare un attimo Lui si 97 batteri E i batteri sono bassi Grazie Ragazzi è evidente Che lui non ce la fa più Ma mica va giù Cioè praticamente è il fuggire più forte A livello di statistiche Che ci sia sul gioco E ora capisco perché Grazie Ragazzi sta giù la stamina E vince Ragazzi non me l'aspettavo Non stavo neanche controllando i round Buono Buono La prima partita è il fuggire La prima partita online contro Mamed Ali E è vinta Ragazzi era tostissimo Non lo abbiamo mandato giù Mai Mai All'inizio ci stava facendo il culo Palesemente 12 round Bellissimo Bellissimo Ragazzi Io che vi devo dire Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ringrazio per essere stati qui con me E ci vediamo Nel prossimo Ciao Ciao Ciao